Siamo davanti al cancello della ditta Onis di Chiesa Nuova di Treia nella zona industriale, cancello che è chiuso da mesi perché purtroppo questa è un'azienda che è in questo momento in procedimento di liquidazione. Sono 34 i lavoratori che in questo momento stanno subendo le conseguenze di tutto questo. È stata chiesta la Cassa Integrazione straordinaria da marzo e quali sono le richieste che il sindacato in questo momento fa per questi lavoratori? Ci siamo impegnati fin da subito da quanto è stato fatto l'accordo di Cassa Integrazione straordinaria per trovare un anticipo da parte degli istituti di credito. Abbiamo trovato un po' di grossa difficoltà da parte dell'ex liquidatore che non ha contribuito a quelle che erano le sue competenze. Adesso è cambiato il liquidatore, ci auguriamo che ci sia questa disponibilità nei fatti e che ci venga fornita tutta la documentazione per poter andare poi ogni lavoratore in banca a chiedere l'anticipo della Cassa Integrazione cedendo il proprio credito della Cassa Integrazione che arriverà poi in futuro dall'Inse. La Onis, azienda leader a livello nazionale per la produzione di piani per cucina e legno, fino a dicembre 2013 non mostrava i segni della crisi, anzi lavorava anche oltre l'orario ordinario. Oggi che lo scenario è cambiato, che fine faranno i 34 lavoratori qualificati? Ci sono prospettive di rilancio dell'azienda? Qual è la proposta della CISL? Chiediamo a tutti gli imprenditori locali questa eventuale disponibilità, perché questa è un'azienda che comunque con Pentecevi fino al 31 dicembre ha lavorato, ha lavorato anche oltre l'orario normale, quindi c'è un prodotto di qualità. Quindi all'interno c'è la nostra professionalità e ci auguriamo che qualche imprenditore non lasci morire questa azienda, ma magari con un affitto di azienda possa rilevarla e possa ricreare un'occupazione, almeno per alcuni lavoratori che già sono dipendenti.